so today is a particular day andiamo a mischiare due sport insieme a posto quindi siamo stati invitati da un pazzo scatenato più pazzo di noi a fare kite al traino quindi abbiamo il surfino anzi il surfone e vediamo che cosa no Diego ho lasciato il furcone aperto completamente spalancato avevo dimenticato anche il trapezio ciao amici a dopo una corda per trainarci ma lui ha il bilancino ma dobbiamo beccarlo allora prendiamo una corda non deve essere in atto dai prendiamo la corda allora praticamente quello che dobbiamo riuscire a fare Diego spiegaci un po' quello che dobbiamo riuscire a fare praticamente è uno deve essere bravo a manovrare la vela del kite per tenerla sempre in potenza e l'altro agganciato dietro con una corda si fa trainare il tau in tipo alla big wave e dobbiamo riuscire a vedere se riusciamo a farci qualche bordo così teoricamente non è una cosa impossibile anzi è abbastanza semplice però nel dato di fatto si vedrà anche perché è una laguna quindi abbiamo una tavola da surf non è proprio il massimo vedremo vedremo com'è non è che la chiamiamo la tra i trai no? perché abbiamo il kite wave tour bravissima ok ecco 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 Wuh! Yehaw! Oh, è cambiato il volo! Hai! Oh, tu s***! Che hai? Oh, c***! Buon appetito! oh il è capricciato andiamo qua allo Sì c'è un pazzo 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 c'è un pazzo